Ok? Ok. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sono la Gamer e oggi siamo in un video in un video un po' particolare perché oggi lei ancora non lo sa che faremo Allora qui... qui... non avremo... qui non avremo solo questo Questo... non avremo... se riesco a trovarli assistenti a me Serti non l'avete dimenticato nessuno... noto anche se li ti dimentico tanto Allora mettiamo la sua reaction... 3, 2, 1... Allora, questa cosa te l'ho rappresentata un anno fa circa Ok? Ho avuto meno tempo? Ma anche no! No, però ci sono più carte le foto... Ci sono tutte carte? Ahah... Oh mio Dio... Ho scelto le carte... Bravo! Ecco perché non ho portato la serie di spacchettamenti di Pokémon Perché io voglio... voglio aprire... voglio aprire queste cose... Allora... detto questo... iniziamo... Allora... Perfetto... Più... Più... Scusami... Questa cosa ci sono qua? Quanta? Scusami... Più... Più questi... In certi video... ce le facciamo... Allora... Mettiamo... Allora... Allora... Penca la sua carta... Questa qui... Questa... In подхода... Il 하지 acquisitionо... Allora... Ve öyle buona... Questo video era più... One van dunque... Un'unña... Un'un... Un'uniccha è stata... ok, Carlo ecco la facecam potrete lascia elitire ecco oh my god nooo faccio 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 no ok allora nel frattempo che apre questa cosa vi devo raccontare tutto perché l'ho comprato erano in vacanza io la mia famiglia e mio cucino e vabbè Filippo che l'avete visto in un altro video Filippo praticamente noi eravamo lì a facciare qualcosa perchè io chiuso chiusa vedo queste carte pokemon carte pokemon io mi sottetto no ma l'unico problema è che era chiuso chiuso è bello, sapete qual è? siamo stati più di me c'era lì a aspettare che quello te ne ho cerchi perché tra le carte che sono pure salse e e niente comunque se volete so vabbè vito la pazza ho solo di una 70 68 oh guarda, è bene c'è un po' poco c'è un po' la c'è c'è un po' gozo non male non male ecco, quello fa la pittata schifo ma, è una, fuori te wow ma, è vero beh, guarda non è vero non è vero è vero non 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 è vero peccato c'è un pic vabbè, i ragazzi sono andati dietro c'è non è vero non so se qui c'è una cosa falsa oppure no ma credo ma credo se voi l'avete visto voi lo scrivetelo qua sotto comunque secondo sono ora so come a scegliermi uno e credo che mi sceglierò indossi vabbè mi metto questo tanto beh tanto che è loco e loco e questo troverò tutti i fake proprio allora mettiamo un po' è bello che io allora io mi devo stragliare per fare questa cosa ed è stancante in caso sapete che faccio in caso le apro qui così e poi mostro le case ok se questa cosa si rovina non è non sa fare bene no dunque ora che ho aperto tutte queste queste carte potrei aspettarsi che la serie di pokemon spacchettamento ritorna si si ci si 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 è si 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 davvero solo tre carte che dovete averle prese moltissimi più ok ecco la prima carta fa schifo allora stupato aspetta credo che è stupato facciamo così va stupato non mi ricordo simpson non mi ricordo come si chiamano professor cucui energia timer pole paper ultra pole e niente qui non credo che ci sono le cx qui le cx non ci sono proprio ci siamo persi l'ultimo ci siamo persi no ci siamo persi l'ultimo ecco nel frattempo controllo se sono sei con no e voi senti le carte c'è andrea c'è andrea non credo c'è andrea 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 Oh, è falsa. Scrafty Hitmontope Mi sa che qui ci sono quasi tutte le fakes, sapete? Sì, sì, sì. Niente. Ok. Boh, vabbè, detto questo mettiamo tutto da parte. Ora, è il tratte momento. Ora spacchetteremo questo mostro. XXL Questa più di... Ma c'è scritto quante altre cavolo ci sono qui? Vedete le lorette una volta. Non c'è scritto, vai. Buono. Non c'è scritto quanto? Ah, sì. Sessanta carte. Oh, my God. 11 minuti. 11 minuti? Non la faccia. Oh. Ovviamente queste carte le metteremo tutte le tue. In questo trading card game. Questo è qui. No, sto schermato veramente. Paschettamente. Vedete? Non vede che qui c'è un matrix per caso? Me aspetta? Wow. No, non è niente. Quest'altro, quelle sono quelle false? No, è la stessa cosa Allora Allora Vabbè Come si apre? Allora, non credo che vi servirà Nimm questo E faccio così Aspetta, voglio provare Ah, possibile State scherzando Aspetta Aspettate Allora Qui c'è il Fox Con il Pokémon Come si chiama Questo l'apriamo dopo Che cavolo Ma quanto è figa Oh my god Aspett Aspett Ora vi faccio vedere Raga Dio santo Eppure Tutto è italiano perché abbiamo fatto tutta l'Italia Comunque voglio farvi vedere Che cavolo abbiamo Combinato qui Se il mio amato lo vede Non mi farà più pubblicare video Porro Dio santo Aspett Aspett Dove è la scatola Aspett Io avevo visto qualcos'altro Vabbè Se questo video raggiunge 5 Like per una lotta con lei Aspett Aspett La spettatura è questa Aspett Abbiamo visto una cosa figa Ah Eccola Litten Oh ti santo Questo è una cosa Non abbiamo trovato una C Ma non mi importa Ora è il momento del pestione Vi faccio vedere Sessanta Sessanta Cavolo Di carte Mischiamo un po' Qui è una cosa Intescente qua dentro Così tante Però il poco me lo tengo Ora Mettiamo Lo facciamo una alla volta Finché non finiscono Prima Pokemon Lilia Un aiuto Vabbè Tora Cat Tora Cat È fake questo Poi no Deve guardare se è fake Anche se non credo Sapete 90 90 20 Vabbè Non è fake Non è fake No è fake Secondo Pokemon How Un altro aiuto Accidenti How How Yeah Inner hero Un'energia a fuoco Poltore Non male Stufo Oh che carino Energia a terra Se non mi sbaglio Yeah How How Passi Man Comunque se vedete qua sotto Come posso vedere Vettere come Come Vedere Quale è fake O meno Perché Vabbè Un'altra Energia Si Tenti Sorride Makuhita 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 Siamo cosa ce l'avevamo Che carino Timer Pole Non so che Che Non so che Sembra Little Ok ho tutta la Saga Little Torrent Cat Little Torrent È L'altro Fuoco Energia fuoco Minerball 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 Tor 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 Energia 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 fuoco Makuhita Di nuovo Makuhita Anche 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 È doppia Anche Anche Forse abbiamo trovato una fake No no è uno fake Accidenti Peccato Terra Accidenti Ok Energia Che Accidenti Ehi Anche Inf geç Brè, torco, vieni, ciò video. Oh, guardate un nuovo... Cosa? Come si chiama? Glitter. Glitter. Endlich, Sandicost. Sandicost. Non so se è un fake. Energia, fuoco. Che sono inizia a acqua, no, uguali. Recupero, energia, che non so che serve perché inizia a fuoco, eh sì, fuoco. Terra. Minerball, again. Passiman. Energia. Pozione, uno nuovo, dai. Litten. Oh, my God. Non litten. Vai. Troppo. Professore. 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 Professore, abbiamo quasi finito. Ultrapol. Ah. Ehm. Come si chiama? Ultrapol. Abbiamo quasi finito, ragazzi. E' l'accento di fuoco. Incinioro. Oh, non ce l'abbiamo. Siamo due. Ce l'abbiamo due. Ovviamente non è fake, ma... E poi... Devo... Devo un litten. Allora, vabbè. Oh, my God. Ragazzi, se volete avere un litten. Malassata a me. Grazie. Bello... Bello scampio. Energia a terra. Vabbè, ora non vi faccio neanche così perché la stessa. Cavolo, tico. Oranguru. Sì. Sì. Oh, fantastico. Torro. Quanto cavolo... Aspè. Litten abbiamo suffi. Vien? Litten. Allora, aspetta, non so se in Italia questa parte Allora, aspetta, alla fine vi vuole far vedere quanto cavolo di little abbiamo Allora Vabbè tanto questo video non si chiamerà Andiamo a scoprire le fake C'è tanto Non vuoi capire E' quanto tu? E' il caillon No, è come E' l'ha già tifo Ah, crap roller Vabbè io me ne ho fatto Allora, lei c'era Trova tutti i Pokémon E io neanche uno Stoffly Stoffly Fatemi dominare Energy a fuoco Ah no Parlo Sand Sandicos Sandicos Siamo Siamo Novo, ti hai ficarte Oh, bè uè L'evoluzione di... come si chiama Questo Crab roller Di nuovo Vabbè sapete che farei io Io ne tratterei Tanto per vedere se sono fake alla fine Timer ball Energia Toracate Vabbè Dove è Toracate qui? Tres Allora Litten Firmas Quattro Vabbè Tampone Vabbè Fettiamo Vabbè Pistole Ah Poldone Questo è il secondo Ciclo Nel Sì Abbiamo Sì Sì Energia di fuoco Energia Insieme Vabbè Tres Dure Uno Fuoco Allora In tutto Sto casino Quattro Litten Due Tiste Cose Tre T L'evoluzione Tlitten Per Aware Allora Secondo me Mi ha fatto poste Per farvi Aiutare a scoprire Qual è il fake Ora vediamo se qui T'ho un fake Vediamo un po' Non lo trovo No Se sapete Come cavolo Trovare il fake Scrivetelo qua sotto Ora Sistemiamo tutto Sto casino E apriamo L'ultima cosa Questa è la casa Tutti insieme Non Io non Tico nulla Vabbè Oh Oli Mi ha fatto Spacca In cosa non ci sarebbe niente Tic Oh Neanche un fake Neanche Come si No Non è che Sacco Ok E ora Faccio così Tanto da fare Spassatura Ecco qua Non ci aspetta Il raccogliatore ufficiale Perfetto Consolca Leo Il raccogliatore ufficiale Buono Ah Sono tutti Tutti Sì E ora Taveremo Mettere tutte Queste Karte Qui Il raccogliatore ufficiale Ma neanche una CX Oggi No Però Ovviamente Se Porterò Cia Vito Con Comunque Prima cosa Fatto Sicuramente Questo Cosa Lo farò Off Off Camera Nel mio tempo Libro Quando non ho niente Da fare Mi metto qua Come facciamo E mi metto Ste cose qua Non hai fatto Bellissimo Guarda 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 C'è No C'è 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 Allora 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 30 22 22 24 28 32 36 38 allora 38 38 pagine 40 pagine per una cosa di sex di sta cosa che più o meno la metà e 60 allora vabbè pure qui ma però infatti io mi troverai prendere due di questi per fare sta cosa vabbè sapete una cosa non importa qui abbiamo un enorme di spazzatura io questo me lo tengo qua dentro non mi interessa è niente sperando che non abbiamo abbiamo un problema aspettate questa è la casa tutta insieme non io non non ho neanche un fake neanche come si non è che stacco io devo tagliare queste cose comunque sto coso non so che cos'è che per tenere tutto ok e ora faccio così tanto per fare spazzatura ecco qua non ci aspetta il raccogliettore ufficiale perfetto lo so il caleo il raccogliettore ufficiale e ora dovremmo mettere tutte queste carte qui ma non in un nuovo video non ci aspetta il raccogliettore ufficiale ma non è anche una CX oggi però ovviamente porterò già a vita con lei comunque prima cosa fatto sicuramente sto coso lo farò off camera nel mio tempo libero quando non ho niente da fare ok mi metto qua come lo scemo e mi metto queste cose qua guarda è fatto bellissimo ma tu guarda 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 lasciandana guarda 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 сказал guarda 52 56 20 24 28 32 36 38 38 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 43 41 42 42 42 42 42 43 43 42 42 42 43 44 45 45 45 42 42 43 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 45 45 45 46 46 45 46 46 46 48 49 cose noi dobbiamo pulire ora tutto questo casino tutto e vabbè questi i codici me li tenco i codici persino me lo tengo chi lo sa se un sorolo ritornerò a giocare ma uno lo posso pure poter farlo e niente guardate qua sotto se volete tutt'ora lo fa lei perché io non so ancora giocare a sto cosa cioè le regole di lecce ma gioco no vabbè niente a me è tutto ok ho tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a che bye 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 ciao Sì, no, non è finito, non è finito. Non è finito, non è finito. Quanti sono gli elementi che... Che cosa ha detto? Non, non lo so. Non è finito, non lo so. Allora, ora, il video è finito. voglio farvi vedere una cosa allora ho provato a fare un diamante uno per altro come volete dirlo e mi è venuto così è venuto davvero così in questo cavolo di moto l'ha fatto lei un attimo fa questo è il miglior comunque mi ha detto a me tutte e non ci mettiamo il prossimo video non mi ha detto di dirmi allora io come cavolo mi ha fatto dimenticare questa cosa iscrivetevi al canale se non è stato così like, subscribe un pokemon e niente e noi ci mettiamo alla prossima cattura ciao 5 tentativi perfetto noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao